M. Marco Coppa presenta la sfida di domani contro la San Cataldese in trasferta, in palio ci sono punti importanti per la salvezza, obiettivo del Bianco Azzurri dare continuità ai risultati? L'obiettivo è quello di tentare di raggiungere la salvezza il prima possibile, per cui noi inevitabilmente domani dobbiamo andare lì e tentare di vincere la partita a tutti i costi per cercare di chiudere il discorso salvezza il prima possibile, che probabilmente non sarà neanche quota 38, ma dovremmo arrivare a quota 40, ancora la quota matematica non si conosce, però non siamo salvi per cui domani dobbiamo andare a giocarci la partita, ripeto, nel migliore dei modi e nella speranza di portarla a casa. È un derby interprovinciale, che partita ti aspetti, che San Cataldese ti aspetti in campo? Mi aspetto sicuramente una San Cataldese agguerrita, perché anche loro hanno bisogno di punti, quindi sarà una partita, sotto il profilo agonistico, sicuramente una partita di alta intensità, come giusto che sia, ripeto, troveremo un avversario agguerrito, ma abbiamo lo stesso obiettivo e noi vogliamo raggiungerlo come loro il prima possibile, quindi sarà una partita tosta. Arrivata in grande spolvore a questa partita dopo la bella prestazione casalinga di domenica scorsa? No, arriviamo bene, come dici tu, perché veniamo da un periodo più o meno felice, il problema però è sempre dietro l'angolo, la cosa più importante è tentare di mantenersi nel tempo, dare continuità a quello che abbiamo fatto, altrimenti non è servito a nulla quello che di buono è stato fatto fino ad oggi, dobbiamo continuare, non sederci, non appagarci, perché altrimenti significa che non siamo maturati, dobbiamo continuare in questa scia di maturazione che credo che da un po' di tempo si stia verificando.